Qui dove è Mare Lucica 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 Ly Maria, 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 Maria Say it loud and there's music playing Say it soft and it's almost like praying Maria, I never stop saying Maria, the most beautiful song I've ever heard Maria Oh 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 che tempesta, quell'aria fresca, pareggianta festa, che bella cosa è una giornata il sole. SON ZAL sozusagen Non pas trois, mais quatre ténors. Thomas Bétinger, Maxime Mironov, Cyril Dubois et Florian Laconis, dirigés par Didier Benetti, qui interprétaient un savant alliage de tube signé d'Alain.